Mister, continua un periodo non positivo per la tua nuova ischia, piove sul bagnato perché ancora squalifiche dal giudice sportivo. Purtroppo è la realtà, in questo momento la squadra in alcuni elementi risulta essere eccessivamente nervosa. Un derby che purtroppo come la partita è andata lascia degli strascichi. Per quanto riguarda il prossimo impegno, il quarto grade è una squadra che sta mettendo in difficoltà diverse compagini da un campionato un po' altalenante. È una squadra insidiosa, preoccupa più la nuova ischia e le condizioni con cui andrete a giocare lì. Ti aspetta un'altra partita molto difficile? Assolutamente sì, stasettimana dovremo fare ricorso alla Juniores perché facciamo effettivamente difficoltà a trovarne 11 disponibili. Cercheremo di fare necessità virtù. Rientra Mendil, quasi forse tra i pochi dei senatori o comunque dei giocatori esperti che ti possono dare quell'esperienza che forse ora più che mai potrebbe servire. Il problema non è in avanti perché bene o male in avanti c'è abbondanza. Il problema è dietro, al centro campo dove siamo contati e bisogna proprio inventare la formazione. Il problema non è il recupero di Mendil, il problema sono gli altri che escono. Mister, al di là degli squalificati, chi ha problemi a livello di infortuni e sicuramente non ci sarà domani? Sicuramente fermo mancherà. Bisogna valutare le condizioni di Matarese che tutta la settimana non si è allenato. Nello Calise è idem, Giovanni Calise è uguale, ma ci sono pochissime possibilità di recupero. Quindi vediamo un po', facciamo questo allenamento, poi ci conteremo e prenderemo delle decisioni. Vista la classifica, la zona play-out è comunque lontana, così come quella play-off. non ci dovrebbero essere problemi per la salvezza. Tempo fa dicessi che bisogna fare al più presto quei punti, resta quell'idea lì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Domani sarebbe uno scontro da non uscire assolutamente sconfitti. però in questo momento è un momento particolarmente difficile. Dobbiamo sperare solo che magari qualche giovanotto che fino adesso si è dimostrato immaturo abbia fatto tesoro delle esperienze negative fatte fino adesso e che riesca a dare qualcosa per farsi che la partita vada in un certo modo.